eccoci finalmente giunti a papozzo di rovigo per il retro academy 2015 stiamo finendo di costruire lo stand siamo già a buon punto per questa edizione abbiamo privilegiato console anni 70 80 e il mondo arcade con il neo geo mws quindi abbiamo tutte le carte neo geo mws come vedete sistemate scatolate e etichettate quindi molto belle anche da collezionare qui mostreremo l'utilizzo della nostra super gun con neo geo mws che iniziamo a vendere da oggi qui nel test abbiamo uno stick neo geo e uno playstation con adattatore una piccola digressione sul saturn poi abbiamo una serie di chicche uniche atari 2006 boxati junior un atari 2006 nero bellissimo questo è un monitor fosfori verdi un vectrex giochi semi completi un atari radica poi amiga msx come dal 64 un in television boxato philips msx boxato kit scuola c64 completo vari joystick e tanti giochi amiga come dal 64 su cartuccia su floppy su cassetta joystick micro switch in perfette condizioni insomma ci sarà da divertirsi bene ci rivediamo poi per vedere come andata andata Grazie.